Lo so ma a noi queste cose non ci devono toccare, noi dobbiamo pensare solo a fare quello che ci chiede il mister, quello che prepariamo in settimana e riportarlo in campo, poi a volte ti riesce meglio, a volte ti riesce peggio, perciò alla fine se ci sono degli assenzi o no a noi non ci deve assolutamente scivolare tutto addosso e pensare a fare una grande prestazione a Salerno.